salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi come avrete intuito sono con le bike perché andremo a fare un test un test confronto fra due droni 249 grammi che sono l'absanzino mini pro e il nuovissimo dji mini 3 pro questi due droni che sulla carta sono molto simili per le funzionalità le caratteristiche che hanno per quanto riguarda il comparto tecnico sia per il sensore della fotocamera che per quanto riguarda i sensori anti collisione e il test che andremo a fare oggi appunto è un confronto fra una funzione che hanno questi due piccoli droni cioè l'active track mi sembra che invece l'auto e levo nano a oggi 24 maggio mi sembra che non abbia ancora l'active track e quindi il confronto sarà sia sull'active track posteriore che sull'active track anteriore quindi andremo incontro e sull'active track parallelo quindi li proveremo in queste situazioni c'è da sottolineare una cosa che lo zino mini pro costa la metà del dji mini 3 pro versione standard cioè quello con il controller classico quindi parole povere il dj mini 3 pro costa il doppio dell'absanzino mini pro quindi c'è da mettere sul piatto della valutazione anche questo secondo me però per quanto riguarda le caratteristiche dichiarate sono molto molto simili quindi staremo a vedere se uno è meglio dell'altro se si comportano uguali se invece meglio lo zino mini pro che costa la metà quindi tra poco scopriremo tutti questi dubbi che abbiamo su questi due droni 249 grammi sebbene poi c'è anche da dire che lo zino mini pro è già sviluppato a livello di firmware mentre il dj mini 3 pro è completamente da sviluppare perché davvero davvero nuovo quindi non può fare altro che migliorare quindi detto tutto questo iniziamo questo triplo confronto tra tre modalità di active track tra absanzino mini pro e il nuovissimo dji mini 3 pro andiamo ok ci siamo mettiamo in volo il dj mini 3 pro ok lo vado a posizionare dietro di me allora ci siamo il dj mini 3 pro e qua dietro di me vado a selezionarmi ok vado a selezionare active track vado a cliccare go e ci siamo pronti partenza via con active track posteriore del dj mini 3 pro poi come ho detto faremo anche quello frontale che è una cosa che mi piace tanto soprattutto quando si fanno le gite in famiglia avere le riprese frontalmente e poi faremo il parallelo adesso qua è molto sconnesso il terreno perché passano i trattori adesso appena arriviamo sul piano che questo proviamo accelerare un attimo siamo a 21 chilometri orari 20 chilometri orari acceleriamo ancora un attimo perfetto 23 24 chilometri orari wow che buca siamo quasi arrivati alla meta buche buche 23 4 chilometri orari è stata la velocità massima che ho raggiunto è perfetto dj mini 3 pro perfetto adesso vado a girare la bici e facciamo la prova frontalmente pronti partenza via direi perfetto sì sì perfetto assolutamente perfetto è accelero un po in questo punto vediamo perché una cosa che mi piace molto l'attività frontale soprattutto quando si va a fare le passeggiate in famiglia così che ci si riprende dal davanti più che dal dietro sto andando a 20 all'ora tanta roba tanta roba davvero tanta roba adesso qua c'ho la curva vediamo come si comporta devo fare la curva lui è andato lunghissimo mi si sta affiancando mi ha perso mi ha riagganciato da dietro perché comunque lui era andato oltre la curva quindi mi aveva perso adesso ritorniamo al punto di partenza e direi tanta tanta roba è la è andato lungo perché lì c'era la curva ovviamente lui stando avanti a me di mi sa un tipo 5 6 metri più avanti di me è andato ovviamente oltre alla curva e io invece ho fatto la curva con la bicicletta quindi lui è rimasto fregato ma sul dritto tanta tanta roba adesso lo posiziono da parte a me così che possiamo fare l'attiv track parallelo ok ci siamo vado a selezionarmi parallelo e facciamo go pronti partenza via ok mi sta tenendo inquadrato sì perfetto davvero super sconnesso sto sentiero ok acceleriamo un attimo siamo a 20 km orari sì mini 3 sempre presente vai adesso qua c'è la curva e vediamo come si comporta qua nella curva sono a 22 km orari qua devo frenare perché è veramente super sconnesso il terreno mi sta arrivando sopra la testa è arrivato lunghissimo si è girato e mi ha ripreso a cosa sta non sta capendo più la mazza nella curva lui è andato lunghissimo è passato sopra alla testa ok adesso lui è qua davanti allora quella curva qua l'ha fregato sia come a team track frontale perché comunque ovviamente lui stando davanti a me di un bel po di metri 45 metri non sapeva che io avrei girato quindi lui è andato oltre alla curva quando ho girato praticamente non era più frontalmente a me però mi ha ragganciato da dietro col parallelo io ho fatto la curva ovviamente lui non sapendo che io facessi la curva è arrivato con la sua veloci perché comunque andavo abbastanza veloce quindi lui è arrivato bello lanciato quando io ho fatto la curva lui mi ha sorpassato e è stato davvero molto molto interessante vederlo in questa situazione ma ovviamente è una situazione difficile perché il parallelo è fatto appunto per andare in parallelo su una strada dritta non con una curva a gomito però era proprio per vedere il limite che poteva darci questo drone in questa situazione quindi adesso ragazzi metto via il dj mini 3 pro e facciamo la stessa identica prova con le stesse tre situazioni con absa zino mini pro quindi andiamo a farlo decollare con gli absa zino la cosa fastidiosa che bisogna avere per forza un'altezza di 5 metri altrimenti non si può fare i quick shot non si può fare assolutamente niente se non sia ad un'altezza almeno di 5 metri e questa è una cosa un pochino fastidiosa allora entriamo nelle impostazioni dell'active track traccia attiva inteso vado a selezionarmi ok e vado a fare go perfetto adesso il drone è agganciato quindi non mi resta che farmi seguire allora pronti partenza via sta arrivando sì è un po lontano rispetto mini 3 rimane un pelo indietro però sta arrivando mi tiene inquadrato da lontanissimo secondo me guardandolo mentre i mini 3 è un po più preciso tiene una distanza secondo me più precisa lui rimane più lontano ok però piano piano sta arrivando qua velocità andiamo a 23 chilometri orari come con i mini 3 ci siamo arrivati anche a 25 ok poi adesso arriviamo in un punto ancora un po sconnesso quindi rallenterò un attimo che qua perfetto opla quindi ci siamo riacceleriamo un attimo qua ancora sconnesso e siamo arrivati al punto di arrivo c'è e non c'è più dove è andato mi sembrava di non sentire più il rumore infatti non c'è quindi vado a riportarlo manualmente qua e andiamo a fare la prova frontale quindi mi posiziono prova frontale secondo me il suo difetto più grande sono questi 5 metri d'altezza che i 5 metri che poi magari vanno anche un pochino ad aumentare se no lui non fa partire i voli automatici e questo è fastidioso perché 5 metri sono davvero tanti non so come mai c'è sta fissa dei 5 metri e come vedete diventa troppo quindi rischia di perdere il soggetto facilmente secondo me anche per questo motivo perché deve stare troppo in alto quindi a questo punto vado a selezionare ancora active track perfetto inteso vado a selezionarmi e vado a fare go e proviamo come si comporta andando frontalmente e almeno qua se dovessi perdere lo vedo o meglio se lui dovesse perdermi me si sposta non va frontalmente si sposta e mi va ad agganciare da dietro se infatti non lo fa quindi frontalmente lui si gira e viene ad agganciarmi posteriormente si sta arrivando però diciamo che non ha fatto quello che doveva fare cioè doveva andare indietro in realtà non è andato quindi è andato indietro un pezzettino per poi girare ed agganciarmi posteriormente però adesso non mi ha perso è vero che sono andato un po più piano no dai neanche sono quasi a 20 all'ora quindi più o meno la velocità è la stessa vediamolo sta arrivando si dai alla ha fatto meglio adesso di prima l'active track posteriore che adesso volevo che facesse quello frontale adesso 21 chilometri orari e mi ha perso e nella curva mi ha perso ancora ma secondo me la sua fregata sono sti cinque metri d'altezza è una cosa che non ho mai capito infatti mi dà un fastidio allucinante ma anche per tutti i quick shot è un po fastidioso questa cosa dell'altezza non so perché ce l'abbia non riesco a capire quindi adesso lo vado a posizionare per provare l'active track parallelo ok ci siamo posizionato salgo un pelo con la telecamera ok perfetto allora vado sempre all'interno delle modalità active track traccia attiva parallelo vado a selezionarmi e vado a fare go quindi ci siamo adesso lui dovrebbe seguirmi in parallelo e vediamo come lo fa se mi mantiene inquadrato dall'inizio alla fine e come farà la curva perché ovviamente quella curva è una diciamo una situazione anomala sia per l'active track frontale che per quella parallelo quindi pronti partenza via sì per adesso sta comportando bene siamo a 20 chilometri orari no 19 in realtà qua è sconnessissimo quindi rallento un attimo lui mi sta tenendo inquadrato qua posso accelerare perché non è più sconnesso siamo a 21 chilometri orari mi sta tenendo inquadrato 22 23 arriviamo alla curva e siamo a 22 chilometri orari curva a 90 gradi è arrivato lunghissimo anche lui mi ha perso è arrivato lungo e mi ha perso perché arrivano lanciatissimi arrivando veloci arrivano fortissimo e quindi vanno a perdere la misura della lunghezza praticamente io curvo ad angolo e loro pram arrivano dritti anzi me lo sono quasi visto arrivare sulla testa ok adesso lo riporto qua e tiriamo le conclusioni su questi active track per questi piccoli droni 249 grammi ok il test è finito e possiamo tirare le nostre conclusioni abbiamo qua lo zino mini pro e di qua il dgi mini 3 pro allora sicuramente a livello di risultato finale non c'è confronto lui ha stravinto però c'è sempre da valutare un discorso anche economico perché qua questo drone costa la metà di questo quindi è tutto dire perché comunque parliamo di un drone che costa intorno ai 460 470 euro e qua parliamo di un drone che nella versione con il controller quello classico quindi quello senza il display costa 860 euro una cosa del genere quindi capite che siamo quasi alla metà e la differenza è davvero tanta per quanto riguarda il punto di vista economico però sicuramente anche dal punto di vista pratico lui tanta tanta roba anche perché qua parliamo di un drone appena arrivato sul mercato con firmware ancora nuovi quindi con tanta potenzialità ancora da sviluppare poi invece un drone praticamente già sviluppato che ha ricevuto tanti aggiornamenti però che è ovviamente attualmente è sicuramente da questo punto di vista per quanto riguarda l'active track inferiore a lui il test che abbiamo fatto oggi l'abbiamo fatto senza i sensori anti collisione che giravano l'ostacolo attivi perché comunque quando andiamo ad attivare l'aggiramento dell'ostacolo lui abbassa tanto la velocità massima quindi non si poteva fare questo test ma lo faremo in un'altra situazione dove si andrà più piano e passeremo magari in situazioni dove ci sono degli ostacoli per vedere il comportamento di entrambi però c'è da dare merito ad hapsan che ha dato una scossa incredibile al mondo dei 249 grammi perché comunque se non fosse arrivata hapsan con un prodotto con delle caratteristiche incredibili secondo me oggi non avremmo lui perché lui è arrivato con queste caratteristiche solo perché hapsan è arrivata a dare delle caratteristiche incredibili in 249 grammi perché se fosse stato secondo me per dji avremmo avuto un dj mini 3 praticamente simile a quello precedente un pochino migliore nella fotocamera però poco di più come ci ha sempre abituato dj a sviluppare le cose a portare nuovi prodotti in maniera lenta appunto perché tanto era l'unico produttore concreto di droni di un certo livello ed hapsan ha dato una bella scossa soprattutto per i sensori anticollisione e l'active track per quanto riguarda autel mi sembra che ad oggi 24 maggio non abbia ancora l'active track ed è una cosa sicuramente triste perché in quel caso parliamo di un drone che costa più o meno come questo quindi sicuramente non è bello che non abbia ancora l'active track però probabilmente arriverà perché comunque era una funzione decantata quando è stato presentato quindi ragazzi vi aspetto voi nei commenti ditemi la vostra è stato un test sicuramente abbastanza estremo per quanto riguarda la situazione soprattutto della curva gomito dove per quanto riguarda l'active track posteriore lui tanta roba lui mi ha perso mentre con la situazione frontale lui frontalmente avete visto non va all'indietro praticamente si sposta per poi agganciare posteriormente mentre lui continua a fare questa inquadratura tenendoci inquadrati andando all'indietro e questa inquadratura che mi piace tantissimo mi piace anche di più di quella posteriore ovviamente quando sono arrivato alla curva lui essendo più avanti di me la curva non l'ha fatta perché era già andato oltre la curva però cosa ha fatto quando io ho fatto la curva mi ha riagganciato da dietro non è che mi ha perso mentre sul parallelo avete visto che quando io ho fatto la curva a gomito soprattutto perché la curva era verso il lato dove avevo il drone quindi non era dalla parte opposta in quindi lui mi avrebbe seguito senza problemi se avessi fatto la curva verso sinistra stessa cosa lui ma avendo curvato a destra entrambi sono andati in crisi perché praticamente io gli sono andato incontro loro arrivano velocissimi perché comunque la velocità della bicicletta mi sembra crentone 19 chilometri orari una cosa del genere più o meno e ragazzi avete visto che loro sono passati via a manetta perché praticamente io come se mi fossi bloccato ho girato di colpo ad angolo retto e loro sono passati via ovviamente se avessi girato ad angolo retto verso sinistra però non c'era la strada per farlo perché la strada andava a destra avrebbero sicuramente continuato a seguirmi in parallelo quindi ragazzi se questo mio video test in cui vi ho portato il confronto tra tre modalità di atti tra che fatte con l'app san zino mini pro è il nuovissimo dj e mini 3 vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitanti e prime spoiler di quello che arriva qua sul canale tantissime cose arrivano su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi un po sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test o un confronto come questo ciao e al prossimo video ciao 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 ciao